Ciao a tutti ragazzi, eccoci con un altro video di Simulimagician e in questo mio nuovo video faccio vedere la mia lama cellata di Assassin's Creed, la mia lama cellata di Assassin's Creed è questa qua, di Assassin's Creed Brotherhood, molto bella, vedete? vedete? il simbolo degli assassini, vedete? la vila, proviamo a fare il niente, i dettagli di brato che vuole sul lato e questo è il davanti, questo si può togliere perché tanto questa è solo la polsiera, la vera lama è questa, scusate, eccola qua, se spingete questo pulsante, guardate, questo scorre davvero, l'unica pecca è che quando la attivate, per farla rientrare la dovete spingere quella, dovete prendere e spingere dentro, però insomma pure questa è curata nei minimi dettagli, bella, bella bella, l'ho pagata 40€ al negozio di video giochi di GameStop, era un'edizione limitata, quindi non ce ne sono più, e insomma questa quando ve la mettete, vi date una botta qua sul fianco come fa lui e la lama, vedete? vi esce, e cioè potete anche far finta di incidere qualcuno perché insomma la lama qua, vedete? rientra, cioè tu lo fai forte contro qualcuno così non gli fa niente perché questa parte qua, la parte da qui a qui è di gomma e quando va a colpire la parte ed ecco si piega e quindi è una specie di ammortizzatore, vedete? rimane piegato pure, ecco rimane piegato e tu te lo vuoi mettere dritto, e niente insomma l'unica pecca che vi ho detto è che per farle rientrare più così, e adesso lo indosso per farle insomma il mio, ecco, e partì là, ecco qua, adesso ci mettiamo in un filo, ecco, così, ecco, vedete, così, scusate, ecco, poi metto la polsiera, mi si è storta, ecco, la polsiera, ecco qua, eccola qua, vedete, quando voglio spingere, come ho detto è un'edizione limitata quindi per tutti i fan di Assassin's Creed come me purtroppo è finita, tipo che questa la sono comprata nel 2012 addirittura mi pare, quindi due anni fa, insomma, il video è finito, come il mio prossimo video io farò vedere il mio mp5 di carta, ci sto ancora lavorando sopra, adesso sto ancora facendo il prototipo, forse entro domani, pure martedì, forse metterò il video su YouTube per farlo vedere com'è venuto, commentate, mettete mi piace e iscrivetevi al mio canale se questo video vi è piaciuto e per tutti i fan di Assassin's Creed, ciao!